La conflittualità coniugale in presenza di figli. La presenza di figli all'interno di un contesto familiare, anziché rappresentare un elemento di serenità, può rappresentare un elemento invece di conflittualità, qualora le dinamiche di comunicazione all'interno della coppia siano alterate. In questo senso la presenza di un figlio può rappresentare per la coppia stessa un elemento che provvede a rendere le dinamiche relazionali in realtà dinamiche estremamente più conflittuali rispetto a quella che era la partenza, perché il bambino prende su di sé tutte quelle che sono le frustrazioni della coppia. Ed è assai difficile in questo contesto pensare ad un bambino che possa in qualche modo, essendo un bambino sostanzialmente una spugna, riuscire a far comprendere il suo stato di disagio ai suoi genitori. In questo senso il bambino avrà una sorta di guadagno narcisistico nell'aiutare i genitori perché prenderà su di sé tutte quante le responsabilità e quindi tutte quante le frustrazioni della coppia e con il passare del tempo questo potrà diventare ancora più pericoloso durante la crescita del bambino stesso. In questo senso è importante prevedere l'intervento di uno psicologo che possa innanzitutto riequilibrare e riassestare i meccanismi di comunicazione della coppia e quindi prevedere una ristrutturazione cognitiva, ovvero una ristrutturazione proprio di quei meccanismi di comunicazione distorti che altrimenti potrebbero ulteriormente esacerbare, ulteriormente intensificare il conflitto all'interno della coppia.